Allora, oggi devo fare la pulizia dell'armario. Sto facendo questa introduzione, sto praticamente a parlare di questo. Praticamente perché io devo... Sto parlando basta che mio marito dorme. Perché io devo lasciare tutte le mie cose in una solo parte, perché praticamente abbiamo bisogno di un scaffale in più per mettere le cose per pulire la casa. Giustamente per il fatto che c'è un mobile in più per mettere queste cose, però questo mobile sta prendendo troppo spazio, quindi abbiamo un risotto di prendere e scaffare, mettere un altro mobile. Sai, non riesca a fare, sai quelle cosine per organizzazione che si compra e si attacca come in quel pallo di mettere i vestiti. Praticamente è lì per mettere queste protessive, queste cose anche il Drea. Abbiamo trovato su Amazon, che sembra dei cassetti, in realtà. Ha trovato lui, che sembrano delle tasche e quindi rimandano in piedi. Questo però non abbiamo ancora comprati per adesso. Penso di mettere lì anche perché io non voglio avere cose, troppe cose, quindi vado a prendere le cose chiusi in viaggio, rimettere dentro di una borsa solo per quelli lì. Quando vado in viaggio prendo e c'è lo so delle cose che devo portare, prendo di lei, sono quelli più piccolini e tolgo le cose che voglio usare questi giorni e praticamente io vado a comprare più cose quando avevo spazio lì dentro per mettere, per non esagerare tanto di queste cose. non penso in riempire un'altra volta quello lì, padatta che faccia perché le donne non sappiamo come siamo noi, però spero di no, quindi e spero che a voi gratiscrivi i video, è un video veloce e anche perché se no dovete stare con un sacco di tempo, perché io sono la persona più lenta del mondo a fare le cose, e lo devo fare sotto perché dopo di questo devo fare sopra i figli e i baffi. No, sto sembrando un messicano, quindi devo farlo per forza, e lascerò un po' le cose nelle video e spero che vi piaccia. A me mi piacciono questi tipi di video, per questo che le faccio, e faccio delle cose qua che mi piacciono guardare. Sto via a guardare tutto, e rimango a guardare così. Sto proiezendo la mia giro, se già sto con voi, come adesso? Prima volta. Bene, adesso vado a fare le cose, così canto prima comincio, prima finisco. Ciao. 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 Ciao.